Penso che la fata Zucchina sia una bellissima fata che ha un grandissimo come dire dovere che è quello di riportarci a raccontare tutto quello che sono il mondo delle nostre materie prime, della nostra natura, tutto attraverso quello che è nei nostri sogni, una fata è una bellissima figura della nostra infanzia e che rimane nel cuore di tutti. Penso che questo voler raccontare attraverso un libro tutte queste favole contadine sia una cosa stupenda. All'interno di questo parco Baladen, l'Open Garden non potevamo non dedicare uno spazio a questa idea, quindi abbiamo scelto il nostro grandalbero che racconterà queste favole contadine della fata Zucchina e siamo felicissimi di realizzare questo angolo dedicato a queste favole. Penso sia il posto più giusto in cui potevamo andare a fare questo momento di emozione, di storia e di narrazione importantissima per i nostri piccoli.